Prevenire è meglio che curare, principio antico che tanto più vale oggi nell'epoca della pandemia. Prevenire la diffusione del Covid innanzitutto individuando i positivi e tracciando i loro contatti. In questa guerra con l'epidemia che assedia gli ospedali, i tamponi rappresentano mura alte e solide per arginare i contagi. Mura che l'azienda sociosanitaria Berica ha costruito bene, lo dicono i numeri, lo ribadiscono gli infermieri. All'Ulso a Berica sicuramente la macchina dei tamponi sta funzionando con grossi sacrifici da parte di tutti ovviamente e grossi investimenti da parte dell'azienda. Se pensiamo che il tempo di processazione di un tampone è come minimo un quarto d'ora, i tempi di attesa sono veramente pochi e nel giro di mezz'ora l'utente ha anche il risultato in mano. A promuovere l'Ulso a Berica è il segretario provinciale di Vicenza del Nursind, Andrea Gregori, che lavora in prima linea nel centro tamponi di Torri di Quartesolo. Qui può vedere con i suoi occhi come funzionano le cose e percepire direttamente gli umori dei cittadini. L'Ulso 8 per i tamponi ha messo a disposizione svariate linee in varie sedi. Ne abbiamo sei al pomeriggio a Torri di Quartesolo, ne abbiamo cinque alla Fiera e poi abbiamo anche dislocazioni su Montecchio e su Noventa e su Valdagno. Quindi una dislocazione geografica ben coperta, personale che viene incentivato ad andare ai centri tamponi con retribuzione aggiuntiva e spazi adeguati, perché gli spazi adeguati sono fuori dagli ospedali. Gli ospedali non hanno spazi sufficienti per questo tipo di utenza e quindi vanno trovati degli spazi fuori, cosa che non è mai stata fatta all'Ulso 7. Insomma, gli infermieri promuovono a pieni voti la gestione tamponi dell'Ulso 8 o Berica. Nell'Ulso 8 l'efficienza si dimostra dalla soddisfazione dell'utenza, mentre all'Ulso 7 Piedemontana è chiaro a tutti che l'insoddisfazione dell'utenza non solo è palese, ma viene anche poco percepita da un'amministrazione che evidentemente ha altre sensibilità. Conclusione con un messaggio al direttore generale dell'Ulso 8, Maria Giuseppina Bonavina, e sono parole di miele. Il messaggio che posso mandare alla direttrice Bonavina è che sicuramente con lo sforzo di tutti, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista concreto delle prestazioni, stiamo dando una buona risposta ai cittadini.